Buongiorno a tutti, sono Annunzato Gentiluomo, dottore di ricerca in scienze del progetto della comunicazione, diplomato operatore Shazzo presso l'Istituto Europeo di Shazzo di Milano e master Reiki Karuna Reiki qui a Torino. Io insegno Reiki e pratico Shazzo. Il Reiki è uno strumento di riequilibrio energetico basato sull'imposizione delle mani, uno strumento giapponese in cui il soggetto, quindi l'operatore, è semplicemente un canale che trasmette energia cosmica che è un'energia riequilibrante che va adagiata sul corpo del soggetto e produce chiaramente un cambiamento, una trasmissione di calore, una trasmissione di energia. L'energia del singolo non è assolutamente toccata perché il singolo si fa tramite dell'energia cosmica che passa attraverso di lui e va in termini di risonanza a produrre e a sostenere l'autoguarigione del soggetto. Grazie. 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 Grazie.